Il potere, proprio perché noi ci ribellassimo e cercassimo qualcos'altro, è stato dato tutto nelle mani di circuiti oscuri e quindi non c'è più un papa buono. L'ultimo è stato Giovanni XXIII, ma è durato poco, era anche un rosa croce lui, ovviamente. Intorno a noi non ce ne sono, anzi potremmo quasi dire che se tu non hai una posizione di alto potere non ci è entrato se non per concessione o per obbedienza a un potere oscuro antiumano. Se non entri in qualche concreta satanica, agli alti livelli di sistemi bancari, ONU, governi, a quelli che contano, ai manovratori, tu non c'entri. Se tu quando volevi fare, ti volevano inserire una lista importante, dovevi fare un rito, addirittura magari partecipare ad una fattura contro il tuo avversario. Sembra fantascienza, ma io lo dico per esperienza. C'è la fila per partecipare, stiamo parlando di un mondo di gente infelice, di matura, questi fanno la fila per fare la qualsiasi.